Il progetto è stato assolutamente confortante, 4.400 voti con il candidato Ferdinando Laghi, primo di Castrovillari, che come segno plastico il progetto ovviamente va avanti, grande entusiasmo, grande compattezza del gruppo. Noi sapevamo che saremmo arrivati al ballottaggio, a differenza dello schieramento di Lopolito, che non so in base a quali proiezioni riteneva di poter vincere al primo turno, cosa ovviamente impossibile e i numeri ci hanno dato ragione. La partita non è finita perché ovviamente ci sarà il secondo tempo del ballottaggio e abbiamo grande entusiasmo e grandi chance. Siamo convinti di poter vincere alla fine questa competizione elettorale. Noi secondo le prime analisi riteniamo che la compagnie di centrosinistra abbia fatto il pieno, noi no. E quindi la competizione elettorale non è finita e la parola fine verrà scritta il 14 giugno.